Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Le voci di un possibile legame segreto tra l'attrice Beatrice Luzzi e il bidello Giuseppe Garibaldi hanno catturato l'attenzione dei media, alimentando speculazioni tra i fan. Dopo un periodo di alti e bassi, sembra che i due si siano avvicinati di nuovo, soprattutto dopo la fine della loro esperienza nel Grande Fratello. Ulteriori indiscrezioni sono emerse quando Garibaldi è stato avvistato a Roma poco dopo aver annunciato un viaggio di lavoro nella sua Calabria Natale per le festività pasquali. Tuttavia, i fan hanno dubitato della sua versione, sottolineando la rapidità del suo ritorno a Roma e notando che Luzzi era stata vista nella stessa città. L'avvistamento di Beatrice alla stazione Termini ha aumentato i sospetti, con alcuni suggerendo che potesse essere lì per incontrare Giuseppe. Questo ha alimentato la teoria che i due stiano frequentandosi discretamente, probabilmente aspettando il momento giusto per rendere pubblica la loro relazione. Sebbene alcuni fan abbiano rilevato un presunto bacio tra i due all'aeroporto di Linate, non esistono prove fotografiche concrete. Inoltre, Beatrice ha spiegato la sua assenza al query post finale del Grande Fratello, attribuendola alla priorità data alla sua famiglia. Nonostante le speculazioni, la verità sulla relazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi rimane avvolta nel mistero, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi.